Buongiorno a tutti, oggi è il 10 di ottobre, andiamo a fare oggi l'analisi sulle candele solo orarie per la giornata di oggi, Eurodollaro, SP500 e DAX. Prima di iniziare, di guardare il grafico, ricordo ancora, adesso ve lo faccio vedere, il lunedì generalmente è una giornata molto calma, questa settimana andremo a vedere quali sono i dati importanti da stare attenti, soprattutto ricordo che il 13 di ottobre ci sarà il dato sull'inflazione, che adesso vi farò vedere e che suggerisco di stare attenti. Allora andiamo a vedere prima il calendario, oggi vedete che il calendario non presenta niente di eccezionale e andiamo a vedere invece il calendario per la settimana e vedete che domani martedì, eccolo qua domani martedì 11, abbiamo l'ingide salari medi che è leggermente superiore, abbiamo la variazione delle chiese di sussini di disoccupazione in leggero calo, è la previsione e poi a vedere che abbiamo il discorso del governatore della banca centrale inglese. Mercoledì invece, attenzione, c'è il PIL dato molto importante sulla sterlina, quello mensile, quello annuale, poi abbiamo la produzione manufattiera che anche questo c'è un previsto in 0 più 2, il PIL mensile e poi abbiamo, vediamo cosa abbiamo ancora importante, abbiamo l'IPP mensile sul dollaro americano che è 0,2, dato positivo, poi attenzione al discorso della Presidente Lagarde e poi abbiamo le previsioni delle IA sull'energia nel breve termine, questo sarà un dato anche da tenere in considerazione e poi abbiamo i verbali della riunione del FOM, attenzione a questi verbali domani, bisogna fare attenzione. Giovedì, attenzione come vi dicevo, attenzione perché giovedì qui vediamo l'inige principale del prezzo al consumo che è 0,5, l'inige principale del prezzo al consumo annuale è questo, poi attenzione l'IPC, quello sull'infrazione 8,1, la previsione era 8,3, adesso siamo a 8,1, andremo a vedere se il dato sarà positivo o negativo e poi abbiamo l'IPC, quello sul mensile, poi abbiamo i richiesti di sussidio e legisoccupazione che è un dato anche qui positivo e poi venerdì, vedete che venerdì, attenzione, venerdì abbiamo le vendite ai dettagli sul dollaro e le vendite al dettaglio mensile e questi sono i dati con le tre stelle più importanti da tenere d'occhio. Allora mi raccomando, stiamo attenti di vedere cosa succede sui dati, avete sempre portato di mano il vostro calendario economico che vi potrà aiutare. Vedremo se ci sarà l'opportunità di aprire un'operazione o no. Adesso andiamo a vedere il nostro grafico. Inizio con questo euro dollaro, eccolo qua. L'euro dollaro, vedete adesso vediamo le tre come chiude la candela dei tre, però qua c'è una, vi faccio vedere qualcosa di molto importante perché il ciclo che è partito qua e che ha chiuso, per il momento abbiamo una, ma siamo già a 201 barre, questo mi fa pensare che qui era partito, doveva essere la partenza del ciclo e invece se vedete che sta continuando a scena e siamo già alla 200, potrebbe fare, come posso dire, un ciclo negativo, cioè vuol dire un tutto al ribasso e infatti vedete che ha rotto anche la candela della settimana. Poi sullo SP500, andiamo a vedere l'SPSP500, vediamo come l'ha questionnato sullo SP500 e vedete che l'SPSP500, ho detto attenzione, che poteva esserci un rialzo perché qui aveva chiuso il ciclo, vedete qua, ah qui sono 114, vedete che potrebbe aver chiuso uno, vediamo che le voglio contare, qui sono 60, vuol dire che aveva chiuso forse qua, 36, 2, questo è il 3, vedete che 3, qui ci potrebbe adesso andare, potrebbe adesso andare a prendere nella giornata di oggi, monitoriamo qui questo 36, 73, andiamo a monitorare se sarà, andrà a prendere questo 36, 73, per il momento non faccio niente, aspetto di vedere cosa succede, non ci sono per il momento le condizioni per poter entrare e sul DAX, vediamo com'è la situazione sul DAX, anche il DAX vedete che ha fatto una candela positiva, vedete che aveva preso questo gap chiuso e adesso è ritornato al rialzo, staremo a vedere che cosa succede, probabilmente suggerisco di stare in attesa di vedere anche l'apertura come apre New York e come apre Londra. Io vi ringrazio, vi auguro ancora, buon trading, una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.